Venditalia 2024 continua, siamo allo stand di Goyo S.P.A., una tra le più grandi aziende italiane dedicate al packaging e ci troviamo in compagnia di Elena Demo, la program manager del settore caffè. Buongiorno Elena e come al solito bentornata. Grazie mille, buongiorno a voi. Io dico come al solito perché ormai il nostro è diventato un appuntamento fisso che sia in fiere dedicate all'oreca, al full service e o al vending. In questo caso parliamo proprio di distribuzione automatica e quindi ti chiedo che cosa presentate in questa occasione a Venditalia 2024. Qui a Venditalia presentiamo come nelle ultime fiere dedicate al settore caffè sia per la grande distribuzione che anche per il consumo domestico tutta la nuova gamma di materiali che sono idonei per il riciclo che è un po' l'argomento che più interessa ai nostri clienti in questo momento. Si tratta di materiali che hanno come loro peculiarità quelle di essere compatibili, di essere già stati progettati per essere riciclati. Parliamo di materiali che vanno dai materiali poliolefinici ai monomateriali. Tutta la gamma si distingue e caratterizza per avere un'elevatissima barriera a ossigeno-umidità e delle ottime performance di macchinabilità. Senza dimenticare il vostro grandissimo impegno relativo alla sostenibilità. Si è un impegno che noi portiamo avanti per quanto riguarda sia la produzione di imballaggi ma tutta la filiera e tutta la catena che porta alla produzione dei nostri imballaggi quindi noi abbiamo una produzione integrata verticalmente quindi dal granulo, dall'estrusione fino alla stampa e al confezionamento di materiale lungo tutta questa produzione noi siamo molto attenti agli aspetti ambientali. E senza dimenticare ancora una volta anche le attrezzature, i macchinari che voi andate a realizzare per la produzione del packaging. Esattamente come i materiali abbiamo lavorato molto negli ultimi anni anche sulle linee di confezionamento proprio per renderle idonee a lavorare questi nuovi materiali di nuova generazione garantendo sempre che il nostro cliente possa mantenere il suo auto produttivo a cui è abituato. Voi avete una rete vendita estremamente funzionale, funzionante e capillare e sono in tanti ad essere vostri clienti sia in Italia che all'estero. Tuttavia nel caso in cui si desideri entrare in contatto con voi, chiedere maggiori informazioni sui vostri prodotti e magari iniziare a tessere una relazione commerciale. Qual è l'indirizzo e-mail a cui è possibile scrivere per essere ricontattati? Noi abbiamo una rete commerciale veramente presente in tutto il mondo, laddove non arriviamo con delle sedi commerciali arriviamo con i nostri agenti. Per tutte le informazioni potete guardare sul nostro sito internet dove ci sono tutti i contatti sede per sede, per cui direi di rivolgersi lì. Elena Demo, Product Manager del Settore Caffè per Goglio SPA, grazie. Grazie a voi.